salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco siamo ancora su final fantasy 16 è quindi altra caccia nectar dimmi tutto allora il prossimo sarai tu severian di recente tra le rovine dei decaduti vicino al rifugio di marta si è risvegliato un esemplare di eco particolarmente aggressivo pare che si attivi all'avvicinarsi di qualsiasi umano armato o non per poi attaccarlo con un raggio incandescente che ha già ridotto in cenere buona parte delle palluti circostanti si tratta dunque di un eco che gli spezza maledizioni vedrebbero volentieri messa a tacere per sempre ecco questo diciamo è un altro guerriero di ultima in teoria dalla descrizione che si attiva appena ti avvicini allora tra le rovine dei decaduti vicino al rifugio di marta quindi anche in questo caso dobbiamo teletrasportarci vicino il rifugio di marta e in questa direzione quindi il se detto dei decaduti allora approfondita dobbiamo fare attenzione perché le diciture sono abbastanza precise in realtà perché loro stanno parlando del rifugio ecco che sembra dell'ascia insanguinata stalle dorate ecco portale dei decaduti quindi ha detto vicino al portale dei decaduti c'è praticamente di fronte al villaggio di marta eh beh è pericolosissimo quindi no dobbiamo andare di qua lo standard è a terra vedi qua il portale dei decaduti però non vorrei che si trovi sotto vedi cioè che dobbiamo scendere perché sicuramente essendo in questa zona potrebbe tranquillamente trovarsi qui però ora lo andiamo a cercare e dopodiché lo andiamo a massacrare eccoci qua dovremmo essere dinanzi alla nostra creatura anche se in realtà l'indicazione non è esattamente precisa perché come potete notare non c'è un vero e proprio riferimento alla piana dei caduti o qualsiasi altra cosa l'unico riferimento è il portale dei decaduti credo che questo sia forse non dico un errore di traduzione ma forse un errore di adattamento perché sorrow wise ora che mi viene in mente potrebbe essere appunto collegamento con sorrow quindi non so forse era una traduzione che effettivamente non è stata delle migliori o un adattamento che non è stato dei migliori comunque eccolo qua trovato severian grado b è morto lo facciamo fuori esatto vedete come quella cosa delle rovine è GITANO! Già le cacce stanno diventando molto più interessanti a livello più elevato hanno anche tanti hp Ecco qua non capisco perché non mi ha fatto the parry Intoccabile Yes con questo qua titano è perfetto ecco non ora perché non mi è entrato la parata ottimo Durante la parata non Cioè lo stesso mi fa danno Ok E anche questo lo abbiamo buttato giù Electrum che era esattamente il materiale Che mi serviva per craftare una certa cosuccia E in rovine tornata Bravo Clive Bene ecco più che altro credo che il riferimento sia questo Vedete queste sono le rovine dei decaduti in realtà nella zona vicino al rifugio di Marta Certo è un riferimento un po' approssimato in realtà in base anche ai riferimenti che abbiamo avuto per le altre cacce Però alla fine l'importante è avercela fatta Detto ciò vi ringrazio per essere stati con me E alla prossima Grazie